Commercio ancora piegato dalla crisi economica con le vendite al dettaglio in contrazione sia su base annua che mensile. Lo rivela Eva Listat spiegando che l'indice destagionalizzato è sceso dello 0,2% a febbraio rispetto a gennaio, mentre guardando il 2011 la contrazione è stata del 4,8%, sintesi di un calo del 4% delle vendite di prodotti alimentari e del 5,3% di quelle di prodotti non alimentari. Si tratta nel complesso dell'ottava flessione tendenziale consecutiva, la più forte da aprile 2012. Nella media del trimestre dicembre 2012-febbraio 2013 l'indice registra una flessione dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti. Nel confronto con gennaio 2013 aumentano le vendite di prodotti alimentari, più 0,2% e diminuiscono quelle di prodotti non alimentari, meno 0,3%. Guardando la forma distributiva, nel confronto con il mese di febbraio 2012 l'Istat ha rilevato una diminuzione sia per la grande distribuzione, meno 3,5%, sia per i piccoli negozi, meno 6%. Tra gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare si registra un calo marcato delle vendite, sia per gli ipermercati, meno 5,3%, sia per i supermercati, meno 3,9%, e diminuiscono, seppure in forma decisamente più contenuta, anche le vendite per i discount, meno 0,1%. Grazie. Grazie.